Inter-Atalanta 2-2, allora ho tantissime cose da dire perché è stata una partita incredibile, come l'avete visto tutti, ma la prima che voglio dire è che veramente queste sono le partite da pazza Inter che mi fanno perdere anni di vita, non solo per la pazza Inter in realtà, ma anche per vari episodi, tipo appunto il gol annullato alla fine all'Atalanta, ma ci arriveremo. La prima cosa che voglio dire è che sinceramente mi aspettavo il pareggio con gol, infatti per chi ha visto la mia live, avevo fatto una live di tipo 15 minuti prima della partita, ma l'ho eliminata perché era solo una live di prova, avevo detto che mi aspettavo un pareggio con gol, avevo detto 1-1, 2-2, infatti è finita proprio 2-2, quindi ha rispecchiato il mio pronostico. Certo c'è da dire che l'Inter si è poi mangiata la possibilità del 3-2 con il rigore di Di Marco, che comunque io non ho voluto vedere in diretta perché appunto ero un po' agitato, poi ho visto il replay e comunque ha tirato un buon rigore Di Marco, lì alla fine è questione di centimetri, ha preso la traversa, però in realtà ha tirato forte, ha alzato la palla e lì è sfortuna, è sfortuna per centimetri non abbiamo trovato il 3-2, poi diciamo quasi sul ribaltamento di fronte, il 3-2 di piccoli e sinceramente penso che nessuno si era accorto che ci poteva essere un'irrevalidità perché c'era quel fuorigioco di Ilicic che però si era disinteressato del pallone, quindi nessuno penso potesse pensare che potesse essere annullato quel gol. E invece effettivamente poi il pallone era uscito sul rilancio di Andanovic di qualche secondo prima e per quanto ovviamente se io fossi il tifoso dell'Atalanta rosicherei tantissimo perché mi annulli il gol per darmi un calcio d'angolo, però da regolamento è ineccepibile la decisione dell'arbitro e però appunto anche lì sinceramente mi ero rattristato molto, diciamo così, mi era presa un po' a male perché secondo me era una partita che comunque è per cui era giusto il pareggio, cioè secondo me non meritavamo di perdere. L'Inter a mio modo di vedere è partita molto molto bene, ha trovato il vantaggio subito con una grandissima azione, poi Dzeko anche due minuti prima del vantaggio ha sfiorato il gol, l'aveva presa un po' a male dal limite dell'area piccola, quindi comunque insomma l'Inter ha creato tanto all'inizio, poi un super gol di Malinoski perché Malinoski ha fatto un super gol su cui forse Skrini ha restato un po' leggero sulla marcatura, però lì fa un super gol e il secondo gol della Dea è secondo me un po' un errore di respinta di Andanovic ma secondo me non un errore grave perché comunque Malinoski tira molto forte e poi comunque Toloi è stato il più rapido ad avventarsi sul pallone, ha seguito diciamo la traiettoria e ha infilato Andanovic a porta vuota. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato secondo me a giocare bene dopo il gol dell'1-1 di Malinoski era uscita un po' di più l'Atalanta, poi siamo ricominciati a uscire noi tant'è che abbiamo trovato il gol del 2-2 di nuovo con Dzeko, un altro gol, però voglio fare un appunto su Dzeko che secondo me oggi non ha giocato bene perché ha fatto tante cose secondo me concettualmente esatte, cioè i passaggi che faceva magari concettualmente era una cosa giusta da fare però poi sbagliava l'esecuzione, questa cosa è successa tantissime volte, in più ha avuto anche tante tante occasioni, poi vabbè per carità lui ci deve stare lì al momento del 2-2 si dice sempre, cioè comunque è un gol facile però ci devi stare, sì però era un movimento secondo me che molti se non quasi tutti gli attaccanti avrebbero fatto, lì la maggior parte del gol in realtà è di Lautaro e Di Marco perché Lautaro appunto ha messo Di Marco solo davanti al portiere, gran parata di mosso e poi Dzeko deve fare la cosa più facile, però Dzeko secondo me oggi appunto avrebbe potuto fare molto molto di più, avrebbe sicuramente potuto fare almeno un altro gol e anche a livello di manovra oggi secondo me non è andato bene. Si è visto secondo me che abbiamo i cambi ridotti perché comunque con Correa fuori la difesa non la possiamo cambiare, gli unici cambi effettivi che abbiamo praticamente sono Di Marco e Dumfries e un minimo vesino che vabbè a me non piace come giocatore, però alla fine sono queste le riserve che abbiamo quindi secondo me si è visto che siamo un po' a corti, stiamo facendo giocare praticamente sempre gli stessi e si vede, a parte ripeto sulle fasce che è l'unico ruolo in cui siamo coperti destra e sinistra, però nel complesso non sono insoddisfatto ecco di questa partita perché per quanto poi stavamo per perderla all'ultimo minuto circa, 87, 88, non so quando aveva tenuto piccoli, però per quanto l'avremmo anche potuta perdere, secondo me oggi l'Inter non ha giocato male, meritava appunto il pareggio e comunque l'Atalanta è una squadra forte. Poi per le cose viste nel primo tempo, secondo me anzi, nonostante poi nel primo tempo eravamo andati in svantaggio, cioè a fine primo tempo stavamo perdendo 2-1, secondo me forse nel primo tempo in realtà meritavamo più noi di loro, poi sono usciti un po' di più loro, poi siamo riusciti noi, insomma è stata veramente una gara molto equilibrata e non ho nulla da rimproverare Inzaghi, secondo me il limite proprio che si è visto oggi è che al momento siamo corti, poi vabbè tornerà Correa e in realtà solo Correa tornerà, però secondo me abbiamo bisogno infatti di almeno altre due riserve di livello e uno deve essere un centrale perché a quanto pare Inzaghi non si fida tanto di D'Ambrosio, penso, almeno questa è l'impressione che mi ha dato e abbiamo bisogno anche di un altro centrocampista, secondo me. È vero che comunque Vidal in questo momento è infortunato, ecco, di altro mi scordavo, quindi in realtà devono tornare Vidal e Correa, però sicuramente almeno un altro centrale serve perché oggi secondo me Bassoni e Scrinia, in realtà poi Scrinia si è anche ripreso, Bassoni soprattutto non ha fatto per niente una buona partita, quindi se avessimo una sua riserva per farlo riposare, rifiatare un po' secondo me sarebbe cosa buona e giusta, tant'è che poi Di Marco, così come a Genova, è dovuto essere adattato come centrale perché lui in realtà non è un centrale, poi lo fa, però se devi adattare i tuoi giocatori significa che ti mancano quelli che fanno effettivamente quel ruolo, cioè ti manca effettivamente una riserva di bastoni se ci devi adattare un esterno. E niente, questo è il mio pensiero su Inter Atalanta, fatemi sapere qua sotto di cosa ne pensate voi e ciao a tutti!